Ricatti è un possibile tentativo di destabilizzare l'azione dell'amministrazione comunale. Sono ormai da tempo al centro delle dure considerazioni del sindaco Lucio Greco che non ha mai nascosto di fidarsi poco di una piccola parte della sua maggioranza. L'avvocato è tornato a pronunciarsi in tal senso all'indomani del voto del Consiglio Comunale sulle Commissioni e passata la proposta dell'opposizione con l'aiuto di esponenti della maggioranza favoriti dal voto segreto. La reprimenda politica del sindaco ha però fatto scattare la reazione interna. Come avevamo già riportato, il gruppo liberamente ha lavorato alla richiesta di monotematico ritenendo essenziale che il sindaco riferisca in aula, magari alzando il velo su chi lo starebbe effettivamente tradendo. I consiglieri comunali Vincenzo Casciane e Perpolo Grisanti hanno avanzato la richiesta di monotematico che a breve sarà valutata al presidente dell'assise civica Salvatore Sammito. Oltre alle loro firme ci sono quelle dei consiglieri del PD e della grillina Virginia Farruggia. Al momento nessuno commenta, i numeri però ci sono per far arrivare la questione in aula dove a questo punto potrebbe aprirsi l'ennesima autoanalisi interna alla maggioranza. Il sindaco Lucio Greco è stato netto nel denunciare l'azione di chi starebbe remando contro pur rimanendo nell'alleanza. Liberamente Dem e Grillini probabilmente hanno intenzione di fare ancora più luce anche su altri aspetti. Il sindaco infatti è ritornato sui gruppi di potere che ambirebbero a mettere le mani su settori importanti anche da un punto di vista amministrativo. Già lo scorso anno aveva pubblicamente sostenuto questa linea. La maggioranza critica e l'opposizione Dem-Grillina attendono riscontri in aula proprio da Greco. Sembrano poco incline ad accettare spiegazioni solo generiche che non scendano nel particolare. Se il caso arriverà in aula, Greco dovrà essere ancora più esplicito la richiesta di monotematico. Pare invece non sia stata firmata dai gruppi di centrodestra che la scorsa settimana, sempre in relazione alle gravi parole del sindaco e alla reazione di alcuni suoi alleati, hanno chiesto un intervento del prefetto. Proprio l'opposizione di centrodestra e l'indipendente Paola Giudice ieri hanno depositato una richiesta alla prefettura di Caltanissetta, ritrendo essenziale che si effettuino approfondimenti su quanto dichiarato dal sindaco.